Ragazzi cari, buongiorno e bentornati sul nostro divano qui a Screen Week TV Siamo qua per parlarvi dei Cinema Days, hashtag Cinema Days Ogni anno ve ne parliamo, quindi... No, non c'eravamo l'altranno No, esatto Cosa sono i Cinema Days? Dice no, non vado al cinema perché io non ho i soldi Ah, no, invece stavolta non hai più la scusa Perché dall'11 al 14 aprile in moltissime sale aderenti A Roma praticamente tutte Pagherete solo 3 euro i biglietti 2D 2D 3 2D 3, 2D Mentre 3D 5 euro Quindi se avete voglia di vedervi 15 film di seguito Avrete l'occasione perché così poco è bello È meglio Andatevi a vedere su www.cinemadaze.it Tutte le sale aderenti con la vostra città Pensate, ci sono le regioni tipo l'Abruzzo Che aderisce, chi l'avrebbe mai detto? Che aderisce a qualcosa Quindi, ricapitolando 11-14 aprile del 2016 Attenzione Cinema 2D a 3 euro Cinema 3D a 5 euro Amici, che Dio che benedica Che Dio che benedica Questo è il momento di andare al cinema Più di quanto già lo facciate Ok? Mi raccomando Di Giro che benedica Grazie Grazie Grazie